bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video io sono ercole birmana rega oggi siamo su angry shark evolution ragazzi siamo sul secondo episodio sul canale di questo bellissimo gioco secondo me rega c'era un'offerta che non mi sono potuto perdere meno 85 per cento sul prezzo di questo squalo non so manco io quante op abishark ragazzi mangia tutto completamente tutto tranne questo questo squalo qua il kraken mangia tutto ragazzi livellarlo costa 45 mila l'uno e sono 15 livellamenti quindi direi che un po di monetucce costa e ci vuole un bordello per farlo salire rega ha 700 di vita è lo squalo in assoluto con più vita guardate l'ultimo squalo che è questo qua a 650 è in assoluto lo squalo con più vita ve lo faccio anche vedere altri squali per esempio questo qua che è lo squalo kaiju 650 poi questo qua 650 625 600 e 500 ragazzi poi vanno tutti a scendere rega veramente assurdo gli squali speciali hanno 250 non hanno troppissima vita rega ve lo assicuro questo qua è lo squalo in assoluto con più vita ragazzi oggi lo proveremo insieme anche se l'ho già un pochino provato perché rega non ho veramente esistito cioè è una roba assurda lo so sono scioppone però è costato soltanto 5 49 c'è un offerto una assurda non me lo potevo perdere uno degli squali più forti del gioco se non il più forte quindi insomma poi ci sciopperemo anche questo squalo qua però tranquilli con le monete e non con soldi veri che anche questo è molto molto forte ragazzi faremo una partita con lui una partita con lui tra un po sbloccheremo anche anche questo qua lo squalo artico che ha un soffio gelante che prende congela tutti questo qua attorno a sé fa una scarica elettrica che paralizza tutti come questo praticamente questo squalo qua vabbè non vi dico niente andiamo subito in gioco può spaccare anche i muri ve lo dico ragazzi guardate il record 2 milioni e 745 mila punti ragazzi vedete è molto diverso dallo squalo normale la schermata c'è ho già 6300 punti non so se avete visto e vedete l'abilità lì in fondo è quella lì è il che praticamente attira tutto nella sua bocca e mangia tutto dopo ve lo faccio vedere ora all'inizio non ve lo posso far vedere perché comunque parte da zero quindi ma do quanti tonni quanti cavoli tonni ragazzi siamo già più di metà eh l'abilità guardate raga ho spaccato il muro c'è sono già nel dorado l'abilità del controllo mentale ce l'ha nell'el dorado che praticamente attorno a sé tutti i nemici si fermano e non scappano però comunque non è che c'è tanto da scappare quindi vi faccio delle missioni eh ragazzi ogni missione da circa 10.000 circa 10.000 monete e l'ultima missione da 100.000 io ho già fatto questa qui sopravvivi due minuti due minuti un cavolo il mio record è 11 minuti c'è mangia anche le bombe più grandi avete visto quella bomba lì raga faccio vi faccio vedere l'abilità è veramente una roba OP e OP ragazzi guardate attira tutto attira tutto ragazzi c'è poi può spaccare pure i sottomarini così senza niente può mangiare gli squali speciali quelli che con gli squali normali scappavi a gambe levata invece con questo qua gli fai proprio il sedere avrò mangiato tipo 10 persone in questo momento e poi posso andare benissimo a una profondità bassissima ragazzi una cosa che non è troppo buona e ovviamente raga che non è permanente perché comunque sarà lo farò anche crescere di livello è ora è soltanto a livello 1 però che perde vita molto molto velocemente guardate raga guardate la sua vita qua in alto perde veramente vita molto molto velocemente questa è una cosa un po attiva perché c'è ok che ne ha tanta però la perde molto velocemente e appunto è una cosa non troppo bella raga qua siamo vediamo il cartello ok non si legge molto bene perché è minuscolo ragazzi però vabbè ok ragazzi questo qua l'ho scoperto prima è tipo un posto dove ci sono le foto dei creatori del gioco guardate è il posto più basso nella mappa penso e poi qua c'è un oggetto quadro di uovo no scherzo non so se ho letto bene ragazzi ma ho letto velocemente ragazzi sono già meno di un quarto di vita e sto morendo raga sto morendo già direi che sto morendo se non mangio muoio ok sottomarino bella bella ho recuperato un po di vita ok un essere umano meno male gli esseri umani danno un botto ok abilitiamo abilitiamo l'abilità scusate il gioco di parole eccola ragazzi mangia tutto completamente purtroppo se ci sono pochi pesci non è molto efficace però vabbè questi sono dettagli ragazzi guardate posso anche spaccare barche guardate boom c'è posso distruggere tutto volendo tutto completamente è oppisto squadra ragazzi infatti è uno dei più forti del gioco quindi è chiaro che sia così ragazzi guardate i miei punti 320 mila era il mio record con uno squadra normale con questo qua è circa di 2 milioni della scorsa partita che ci ho fatto prima di questo video ragazzi due milioni di punti non so se vi rendo un po l'idea però ecco ragazzi vedete sono nel dorado e c'ho il controllo mentale tutti i nemici attorno a me vedete raga saranno controllati sono fermi ragazzi tutti i nemici attorno a te sono fermi ragazzi livello 2 livello 2 livello 2 gg per noi ragazzi livello 2 scusate ma se attivo l'abilità qua ragazzi avrò preso tipo 20 casse ok qua l'ho un po sprecata ragazzi guardate può andare anche sulla terra vedete si muove con le sue zampi assurdo raga assurdo c'è mangia pure le bombe non lo può fermare veramente nessuno no sto morendo raga raga sto morendo devo mangiare ragazzi devo mangiare sto morendo no sto morendo ragazzi mangiamoci queste bombe che non danno niente però no raga ok persone 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 bella bella no ok ho recuperato un po di vita però non c'è più niente ok mangiamoci questa razza qua questi pescetti qua ho un altro sottomarino gg lo faccio completamente fuori prima i sottomarini mi serviva l'el dorado per ammazzarli adesso li ammazzano così senza niente andiamo a dire che appunto siamo delle missioni siamo a risucche 500 nemici usando le foci vorticose siamo all'8 per cento perfetto no e ragazzi non mi si muoveva più non so perché non so perché mangiamo tutti questi pesciolini qua ragazzi poi la schermata è pure rideotta cioè veramente forte veramente forte ragazzi ok mangiamo tutto vabbè ok ragazzi e sono qua non trovo veramente più pesce mangiato di tutto ragazzi mangiato completamente di tutto ho finito il mare praticamente però ora sto morendo potrei mangiare queste meduse purtroppo non mi danno molta vita e mi sa che sono out sono autica sono auto niente ragazzi posso continuare gratis ma noi non continuiamo perché sennò il video dura veramente mezz'ora ragazzi livello 2 per il nostro bellissimo squalo ce l'abbiamo anche doppio 4398 money veramente assurdo è veramente una bomba a mano ragazzi mi prolungo altre offerte però vabbè ho sblocato tutti quanti gli squali speciali tutti quanti ragazzi proprio squalo squalo di fuoco servivano tipo un bordello di punti per sbloccarli però con questo squalo qua in un prossimo episodio se arriviamo a 7 like forse 10 erano un po troppi nel prossimo episodio nello scorso episodio però questa volta vi dico se arriviamo a 7 like porto al video dove shop questo elettro squalo e anche questo verrà sicuro è molto forte non farà 22 milioni e 700 mila punti come l'altro però ciao ciao